Antonio Balzano, Pescara che torna in vetta alla classifica, intanto quali sono le sensazioni proprio nel pieno di questa prima settimana da capolista? Sicuramente sono più che positive, siamo felicissimi anche se da quello che sento nella squadra non è importante ora la classifica, di sicuro fa piacere vederci lassù, ma dobbiamo avere l'umiltà di continuare a lavorare come stiamo facendo e i conti si faranno alla fine, per adesso ci godiamo questo momento, dalla settimana prossima pensiamo ad andare su un campo difficile e raccogliere punti. Senti, curiosamente si è detto che sei anni e mezzo fa il Pescara era per l'ultima volta in testa della classifica, era la fine del campionato e tu sei probabilmente l'unico reduce in questo gruppo, di tempo ne è passato, ma quali sono le emozioni anche se capiamo che la situazione di campionato è decisamente diversa? Sicuramente è un campionato molto differente da quello, è bellissimo perché rivivere quei momenti ti fa ricordare tutto quello di positivo che c'è stato e se si crea con l'entusiasmo tra squadra, tifosi, città diventa veramente bello. Dobbiamo pensare di essere una squadra che deve lavorare sul campo quindi non bisogna andare oltre con la testa, per adesso ripeto bisogna pensare partita dopo partita, fare più punti possibili, i conti si faranno verso la fine, adesso è troppo presto, anche se è molto bello quello che è accaduto finora. Grazie a tutti.